Buon lunedì! Nel brado di Vangelo di oggi, tratto da Luca, vediamo che Gesù, leggendo nella sinagoga un passo di Isaia, che profetizzava la venuta del Messia, afferma che quelle parole scritte molto tempo prima diventano realtà con lui stesso. Gesù afferma, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, come per dire, colui di cui parla Isaia sono io. L'evangelista Luca ci tiene a sottolineare che questo episodio accade nella sinagoga di Nazareth. Nazareth era dove era cresciuto Gesù. Quella gente sapeva chi era, chi era la sua famiglia, ma era per tutti il figlio di Giuseppe, di Maria, e non certo il Messia. Quella gente, pur essendo ebrea, non riconosce in lui la presenza di Dio. Proprio quelli che avrebbero dovuto accorgersi che Gesù era il Messia, arrivano addirittura a cacciarlo, come leggiamo a fine del brano. Ed è per questa ragione che Gesù porta a loro, porta a loro come esempio due stranieri. Due stranieri che hanno saputo accogliere Dio. Naman il Siro e una donna, una vedola di Sarepta di Sidone. Come per dire, forse sono gli stranieri più pronti ad accogliere Dio che voi, che siete ebrei e che dovreste essere pronti ad accogliere il Messia. Effetti, quelle persone alle quali Gesù stava parlando, pur essendo ebrei, non sanno accogliere Dio, non sanno riconoscerlo. Perché? Perché erano piene di loro stesse. Pensavano di sapere tutto su Dio, sulla fede, sul Messia. Mentre Gesù, come leggiamo nel brano di Isaia, è venuto innanzitutto per i poveri. Cioè per chi riconosce di non sapere tutto su Dio, sulla fede, sulla vita, per chi non è pieno di sé, per chi ha desiderio di conoscere, di sapere, di farsi mettere in gioco da Dio. Guardate, quante volte mi capita di trovare molta più curiosità su Dio e sulle questioni della fede e della spiritualità in persone lontane dalla Chiesa. Mentre chi si reputa cristiano, che frequenta certi ambienti di Chiesa, ambienti ecclesiali, sembra più preoccupato da altro, da gossip, da acrestia. Sembra, sembra a volte di vedere le persone più affascinate da intralazzi ecclesiali, clericali. Si vede la Chiesa come una specie di azienda, che deve produrre solo dei servizi alla gente. E si perde di vista la curiosità, l'amore, il desiderio per le cose di Dio. Si parla di mille cose negli ambienti ecclesiali, spesso meno che di Dio. E anche tra preti, eh. Ecco, quegli ebrei erano vuoti di curiosità per Dio, pieni di loro stessi, delle loro liturgie, delle loro ritualità, prescrizioni religiose, bravissimi a osservare tutto, ma Dio era sparito dal loro orizzonte. Pensavano di aver capito tutto della fede e non c'era in loro nemmeno un briciolo di curiosità o un minimo di desiderio di mettersi in discussione. Sapevano già tutto. Cosa poteva insegnare loro un giovane falegname? E questa domanda ce la dobbiamo fare tutti. Io, tu, noi. Abbiamo ancora un po' di curiosità per le cose di Dio, per ciò che riguarda la vita spirituale. Per che cosa siamo cristiani, siamo preti, per crederci degli arrivati o per renderci conto che siamo sempre in cammino, che seguire davvero Gesù vuol dire ogni giorno lasciarsi mettere in discussione, lasciarci affascinare, stupire da Lui, che sempre ci spiazza e chiede di lasciarci spiazzare. Come dico spesso, credere, coltivare la fede, serve a darci un punto fermo, ma allo stesso tempo il cammino di fede non è sedersi e chiudersi in una specie di fortino, ma vuol dire avere sempre il desiderio di metterci in discussione, di accettare che abbiamo capito ben poco su Dio e c'è tanto, moltissimo da capire e da scoprire. Buon inizio di settimana a tutti.